Gindobre, buongiorno, io mi chiamo Carlo Bognolo, sono lo chef del ristorante La Tavola. Vi invitiamo ad assaggiare i nostri piatti a base di pesce, di carne e nonché i nostri prelibati dolci, compreso il tiramisu, originario della mia regione, il Veneto, nella fattispecie di Treviso. Vi aspettiamo numerosi, ci apprezziamo e cerchiamo a tutti i nostri ristoranti. Fai e buona.